Papa Francesco ha ricevuto e ringraziato il personale della floreria che si occupa della sistemazione degli alloggi vaticani e soprattutto degli spazi per le udienze papali. Un'opera indispensabile, ha detto il Papa, per ottenere locali accoglienti e strumenti funzionali. Vi ringrazio di cuore per la cura, la professionalità e la disponibilità con cui svolgete il vostro lavoro, ha detto il Papa. Vi incoraggio a perseverare nella fedeltà ai vostri doveri e a mantenere tra di voi un clima di serenità, di reciproca fiducia e di benevolenza. Questo stile di vita e di lavoro ritornerà a beneficio di tutta la comunità lavorativa del Vaticano.